Giuseppe Caro, che noi abbiamo un voglio e poi spartendo di Pierimonte abbiamo avuto in piacere l'onore di conoscere in un raduno a Firenze dove conosciamo anche te e quindi praticamente questa è un'esperienza che va vissuta ci troviamo, ci troveremo in presenza di un mito, in presenza di una leggenda Giuseppe Caro non è stata una leggenda della piaggio, è stata una leggenda d'Italia sicuramente conto l'invito della provincia